Ancora una tragedia della strada in Salento. Ancora la strada stata alle 275 protagonista. E' successo martedì mattina all'altezza di Lucugnano. Nello scontro tra una Lancia Y vecchio modello condotta da un uomo che non ha riportato particolari conseguenze, una moto Suzuki ha perso la vita, Fausto Nicolì, 55enne di Patù. L'uomo ha fatto un volo di diversi metri dopo l'impatto con l'auto finendo rovinosamente sull'asfalto. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al centauro, morto praticamente sul colpo. A nulla sono valsi tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Nicolì è un nome noto alle cronache nazionali. Per un breve periodo è stato accusato di aver ucciso Noemi Durini, la ragazza di specchia assassinata nel settembre del 2017 nelle campagne di Castrignano del Capo. Di Nicolì si è parlato anche nelle cronache locali, per alcuni guai con la giustizia. Nel 2019 era stato anche arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, avendo trasportato oltre un chilo di marijuana. Sulla tragica fine dell'uomo stanno ora indagando i carabinieri di Tricase, intervenuti sul posto insieme ai colleghi di specchia.